Esasperati perché il comune gli nega il diritto al trasporto si sono dati appuntamento prima a casa e poi al municipio di Gioia Tauro. Tre mamme di ragazze speciali che da aprile, visti i conti in rosso del lente, non hanno a disposizione nessun mezzo comunale e il pulmino attrezzato. Chiedo soltanto il pulmino per mia figlia. Non ho macchina, non ho marito, non ho figli. Con chi la devo mandare fuori sta ragazza? Il servizio da palmi voglio. Le signore Immacolata, Teodoro e Carmela, con le loro figlie Selene, Silvana e Anna Rita, si vedono tutti i pomeriggi e alternano rabbia e sfiducia. Vanno e vengono dal comune per avere informazioni. Hanno saputo che ora alla guida del lente ci sono tre commissari e che il comune in predistesto ha risolto i problemi che aveva con lo scuolabus dei bambini Roma. Ma le signore non alimentano affatto gelosie tra poveri. Noi non ce l'abbiamo con i commissari. Io ho fiducia in loro, come ho avuto fiducia nel commissario precedente. Anche questa volta i municipi ricevono la stessa risposta. Però come potete gestire se non avremmo risposto? E l'ho facendo, non devono credere. Cassa in rosso e la felicità di Tre Angeli non trova rappresentanza nelle istituzioni sciolte per mafia. Da qui l'obbligo di arrangiarsi e non rassegnarsi. E noi vogliamo parlare con i commissari per avere una risposta seria perché siamo stanchi. I commissari non arrivano ma mandano a dire alle mamme che come soluzione tampone si tenterà di usare non le auto confiscate di cui l'ente dispone ma un mezzo che la struttura palmese possiede. Le signore si fidano e per ora sciolgono il presidio. Agostino Bantano per la C News 24.